Questo era Casino Mandelli 5 anni fa. Un cantiere da cui ricavare spazi donne in cui potesse rivivere alla ricerca industriale. Oggi è decisamente un'altra cosa, i locali sono praticamente pronti ad ospitare a partire da maggio il tecnopolo di Piacenza. Qui si trasferiranno il consorzio MUSP, macchine utensili sistemi di produzione e i laboratori di RSE, ricerca sul sistema energetico. Una visita in anteprima, siamo entrati all'interno della villa padronale del 700 dove troveranno spazio gli uffici del MUSP. Completamente ristrutturata sotto la supervisione della soprintendenza che ha voluto mantenere il contesto più vedele possibile all'originale. A partire dai pavimenti recuperati, dagli affreschi restaurati su tre soffitti, le cantine, le inferiati, i cancelli, tutto accompagnato da un sistema di impiantistica moderno, vetri speciali per evitare la dispersione del calore. Sul lato opposto dell'aia centrale la palazzina per gli spin-off, lateralmente ufficio e laboratorio di RSE. Con il tecnopolo Piacenza continuerà a puntare sulla meccanica e sulla ricerca industriale. I tecnopoli in Emilia-Romagna sono 10, uno per provincia, ce n'è due a Bologna per evidenti motivi dimensionali. Questo dovrebbe essere il punto di accesso per le imprese verso la rete regionale della ricerca. Dunque non soltanto MUSP che è uno dei laboratori della piattaforma meccanica e materiali ma anche tutto il resto, quindi le scienze della vita, l'agroalimentare, l'ICT, l'energia e così via. Insomma tutte queste opportunità offerte dalla rete regionale della ricerca sono presenti in tutti i territori regionali e questo a mio modo di vedere è il tecnopolo meglio riuscito sotto questo profilo perché recupera un'infrastruttura in abbandono che è stata, adesso poi i cittadini e gli spettatori potranno verificarlo, è stata restaurata in modo esemplare unitamente a un laboratorio dove trasferiremo tra poco i macchinari e le strumentazioni del laboratorio MUSP. Dall'ultimo piano della palazzina principale la vista è d'impatto nel cuore del polo logistico piacentino. Accanto alla villa padronale troverà spazio la sede della laurea magistrale in ingegneria meccanica, davanti una camminata di 96 metri, un'area verde che risale al catasto napoleonico. Stiamo attraversando il vialetto che ci separa dal capannone dove avranno luogo le attività fisiche del laboratorio e un camminamento di lunghezza 96 metri, anche questo accatastato come l'immobile nel catasto napoleonico e destinato a essere utilizzato come verde da arredo urbano. A questa destinazione io sono leggermente contrario, nel senso che questo è un luogo, un'infrastruttura che è dedicata all'attività di ricerca industriale, quindi deve trovare tutto se possibile una ricaduta, un utilizzo che ha a che fare con l'attività di ricerca, di formazione, questo è l'obiettivo. Quindi se ci fosse qualche gruppo interessato all'interno della facoltà di Agraria o nell'istituto Marcora, fosse interessato a utilizzare questo spazio per studiare coltivazioni o effetto di qualcosa che abbia a che fare con il miglioramento dell'agricoltura. Lo spazio a disposizione, l'unica richiesta che faccio è che poi venga tenuto in ordine, ma non c'è nessun'altra richiesta che fa il laboratorio di infrastruttura di proprietà del comune, noi non siamo che degli utilizzatori di questa cosa qui, in quanto utilizzatori vorremmo che fosse usata molto. Una struttura di proprietà interamente comunale per il cui ripristino l'Europa ha stanziato una somma importante di 8 milioni e 300 mila euro destinati specificatamente a questo scopo. Un investimento da giustificare in tempi di magra dove banalmente mancano i denari per ammodernare le aule scolastiche. Questa struttura costa un sacco di soldi, sono soldi pubblici e quindi dal mio punto di vista bisogna che troviamo una giustificazione perché queste risorse vengono spese per un tecnopolo e non per altro. Fatto salvo quello che ho detto prima, cioè erano arrivate etichettate in questo modo e non si poteva utilizzarle per altre finalità, questo oggetto non lo vedo come la sede nuova del laboratorio MUSP, ma piuttosto come un dimostratore di come dovranno essere gli insediamenti industriali in Emilia Romagna per il futuro. Questo insediamento in particolare la parte nuova che abbiamo fatto realizzare, il capannone industriale, ha sul tetto un tetto fotovoltaico da 50 kilowatt che raccoglie energia rinnovabile, lo fa in maniera discreta, non si vede nulla, non è il tipico fotovoltaico a terra che talvolta risulta offensivo per l'occhio di chi è abituato a vedere invece una campagna. C'è anche un impianto geotermico, quindi dal nostro punto di vista è legato all'idea di avere una struttura autosostenibile dal punto di vista energetico, raccoglie energia rinnovabile, la usa per quello che è necessario, quindi c'è anche una filosofia diversa di utilizzo da parte dei ricercatori che non debbono avvalersi di quello che non serve in termini di risorse materiali ed energetiche. Abbiamo usato ogni tipo di precauzione possibile, qui l'acqua piovana viene raccolta in pozzi che servono ad alimentare l'impianto di irrigazione perché non bisogna utilizzare l'acqua potabile per delle finalità che sono diverse da quelle per cui è stata resa disponibile al cittadino. Se guardiamo a questa attenzione, alle attenzioni utilizzate nella progettazione di questo oggetto forse riusciamo a giustificare l'impiego di risorse così ingenti per una finalità che speriamo possa essere a vantaggio della comunità locale, delle imprese e non solo delle imprese del territorio. All'ingresso il cuore pulsante della ricerca là dove verranno trasferite le attività di laboratorio del MUSP e il capannone di mille metri quadrati pensato anche per diversi insediamenti industriali. Abbiamo pensato anche al momento in cui il MUSP non occuperà più questa infrastruttura, noi l'abbiamo incomodato d'uso dal comune che ne è proprietario per 20 anni, realizzando gli impianti del tutto indipendenti in questa zona che è quella dove avviene l'attività hardware diciamo così rispetto a quella dove ci saranno gli uffici, in modo che in futuro possa essere utilizzato da utenti diversi e con esigenze differenti da quelle del nostro laboratorio. L'attenzione massiva è stata riservata al discorso delle risorse energetiche da minimizzare, quindi anche questa infrastruttura che sul tetto ospita il fotovoltaico è fatta per consumare quanta meno energia possibile. Sono già attrezzate le piazzole dove le macchie andranno installate, tutto è stato fatto rispetto alla sicurezza, i nostri ricercatori sono persone giovani, non hanno esperienza pluridecennale come può essere per i tecnici aziendali, quindi abbiamo fatto in modo che tutto fosse più facile, i cablaggi non passano a terra, non abbiamo cose complicate che richiedono soluzioni tecniche impegnative, abbiamo fatto installare un caroponte che servirà per facilitare le operazioni di carico scarico di spostamento, questo però è solo la scatola, poi quello che conta è che cosa ci facciamo all'interno. Questo è il Tecnopolo di Piacenza, l'auspicio è che l'attività dei giovani ricercatori che vi operano porti sul territorio aziende partner di livello e che la struttura continua ad essere punto di riferimento della ricerca industriale, lo stesso nome che potrebbe prendere a breve la via che ospita il Tecnopolo.